Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Ortovox Peak 35, lo zaino tuttofare di casa Ortovox pensato per l'alpinismo e l'uscialpinismo, di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questo Ortovox Peak. Come dicevo io è il modello 35, ma esiste anche il modello 45 e 55 litri. Inoltre esistono altri tre modelli pensati opposti per le donne. Per quanto riguarda lo schienale troviamo la tecnologia Swisswall di Ortovox, poi vediamo come funziona. Io come vi dicevo ho la versione da 35 litri che pesa 1,5 kg, per quanto riguarda i materiali troviamo un Nino Ripstop 400D, quindi davvero molto resistente. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche ne vediamo insieme pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale. Come vi dicevo qui troviamo la tecnologia Swisswall di Ortovox. Uno schienale che va naturalmente a diretto contatto con la schiena e che tra tutti gli schienali a diretto contatto con la schiena probabilmente è il più traspirante che c'è in commercio. Vi assicuro io ne ho provati diversi, traspirante come questo qua non l'ho mai trovato. Io l'ho utilizzato in una giornata veramente molto 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 calda e ha svolto veramente un eccellente lavoro, davvero quella tecnologia Swisswall mi ha sorpreso tantissimo. Poi essendo naturalmente uno zaino a contatto con la schiena il carico è molto ben bilanciato, lo zaino non ci sbilancia quando andiamo anche nei passaggi più tecnici e la stessa tecnologia Swisswall la ritroviamo anche sulla fascia lombare. Per quanto riguarda la fascia lombare non è staccabile, cioè il fascione non si può togliere, secondo me questo è un po' un peccato perché può dar fastidio all'imbrago, a me è capitato facendo dell'alpinismo. E vi assicuro che però lavora molto molto bene, cioè con questo tipo di fascione la dozzina di chili la portate senza tanti problemi. Sul fascione lombare troviamo nella parte di destra una tasca dove andare a riporre qualche oggetto, un telefono, comunque quello che vogliamo. E nella parte di sinistra invece abbiamo una fettuccia dove poter andare ad attaccare un moschettone o comunque qualcosa. La fascia lombare inoltre si chiude con una semplice clip sulla parte anteriore, lavora bene anche a pieno carico non si apre e mi piace molto che possiamo andare a richiudere tutto il cordami in eccesso per evitare che ci sballonzola davanti. Parlando di spallacci, anche loro naturalmente hanno la tecnologia Swisswall che lavora altrettanto bene, hanno una bella sezione ampia e questo ci garantisce di poter portare un ottimo carico senza che ci tagli le spalle, quindi molto bene. Abbiamo a solito la chiusura pettorale poi per stabilizzare lo zaino con all'interno anche un fischietto e poi sullo spallaccio di destra è presente anche una piccola fettuccia dove andare a riporre i propri occhiai da sole. Continuiamo a parlare di questo Ortovox Pic 35 guardando nella parte posteriore iniziando da uno dei due suoi lati. I lati in questo caso non sono proprio simmetrici. Cosa troviamo? Troviamo due fettucce da poter andare ad aprire entrambe per poter trasportare lateralmente degli sci, per esempio, oppure una corda facendola passare sotto il cappuccio. Nel lato di destra troviamo inoltre una piccola tasca che può svolgere o la funzione di porta ramponi, però comunque è molto ben resistente, fatta con un ottimo materiale per evitare che si tagli ed è apposta pensata per i ramponi, oppure se non dovessimo usare i ramponi ci sta entrando benissimo la borraccia. Questa tasca è presente come dicevo solo nella parte di destra, non c'è nella parte di sinistra che invece è completamente liscia. Anche qui si vede molto bene la cura a dettagli di Ortovox, ogni singola fettuccia ha la possibilità di richiudere il cordame in eccesso per evitare che sballonzola con una service velcro. Quindi davvero Ortovox ha curato ogni singolo dettaglio in questo zaino. Arriviamo a parlare della parte posteriore in vera e propria, che qui è davvero dove Ortovox è proprio sbizzarrita. Iniziamo a parlare che questo zaino è composto da tre tasche. La tasca principale, una seconda tasca messa nella parte esterna dove andrà a riporre la nostra pala e sonda. È molto grossa come tasca, cioè ci sta dentro una sonda anche di quelle belle e generose in altezza e soprattutto ci si può mettere all'interno anche ulteriori materiali perché è abbastanza profonda. E poi nella parte completamente esterna troviamo un'ulteriore taschina piccolina impermeabile dove magari andrà a riporre una cartina o comunque qualche oggetto. Nella parte esterna naturalmente possiamo portare due piccozze suddivise, una a destra e una a sinistra con gli appositi agganci. Oppure possiamo portare anche dei bastoncini. Oppure ancora possiamo portare il casco con la M-Tolder dato in dotazione da Ortovox e questo possiamo portarlo sia sulla parte posteriore dello zaino sia sopra il cappuccio. Ma non solo perché in dotazione vengono date anche delle piccole clip con le quali possiamo andare a portare nella parte posteriore uno snowboard. Io non utilizzo lo snowboard, ci ho portato delle ciaspole che comunque ha svolto veramente bene anche in questo caso il suo lavoro. Nella parte posteriore inoltre abbiamo in basso a destra una fettuccia bianca che si può estrarre e con questa possiamo portare degli sci a taglio nella parte posteriore andandoli naturalmente ad agganciare anche nella parte superiore con la chiusura del cappuccio. Vorrei farvi notare anche qua la cura dei dettagli di Ortovox. Pensate che tutte queste piccole feature, tutti questi piccoli gancetti si possono andare a nascondere per evitare di avere dei gancetti che sballonzolano destra e sinistra. Quindi davvero una cura dei dettagli che non penso di aver mai visto così precisa su nessuna casa outdoor che produce zaini. Parlando invece della tasca principale, allora questa cosa si può aprire o dalla parte superiore con una semplice chiusura dove basta andare a tirare gli estremi, si apre l'apertura e ritirando il cordino si chiude oppure possiamo utilizzare l'apertura laterale che va ad aprire quasi a 180 gradi lo zaino in modo tale da aprirlo quasi a borsone e poter riprendere qualsiasi cosa vogliamo anche dalla parte inferiore. Ma non solo perché la terza apertura che abbiamo, pensate un po', è posta nella parte anteriore bassa, quella che nel zaino tracking viene definita l'apertura per il sacco a pelo. Anche qua possiamo aprirla per andare a riprendere degli oggetti posti nella parte inferiore. Quindi davvero Ortovox le ha pensate veramente tutte per poter utilizzare questo zaino. Altra nota non da poco, che ho apprezzato moltissimo, è che nella parte interna della sacca principale sono presenti degli elastici per andare a fermare il carico. Quindi faccio un esempio, ho portato un termos, volevo essere sicuro che restasse verticale per non perdere il tè all'interno, l'ho messo all'interno di un elastico e gli è rimasto. Quindi veramente una feature molto interessante e ben studiata. Infine, parlando del cappuccio, questo è composto da due tasche, una è la parte esterna e una è la parte interna. Fosse stato possibile rimuoverlo, ma non è possibile, quindi non possiamo andare a diminuire un po' il peso di questo zaino. Però comunque sono due tasche veramente molto generose, soprattutto quella esterna, ci sta dentro davvero tanto tanto materiale. Per quanto riguarda il comparto acqua, questo zaino naturalmente non ha il re-encover, essendo lo zaino da alpinismo. Però diciamo che il materiale con cui è fatto è un pochino idorrepellente. Per intenderci, se prendiamo una nevicata leggera, un pochino tiene, la roba all'interno si bagnerà, ma quando inizia a piovere o a nevicare in modo deciso, in quel caso si bagnerà tutto. Possiamo inoltre portare, come dicevo, una borraccia sulla parte esterna se non andiamo a mettere dei ramponi o non abbiamo degli sci posti nella parte esterna. E poi naturalmente è dotato anche di la possibilità di mettere una vescica all'interno, con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore. Parlando un attimo di materiali, come vi dicevo, questo Orthovox Peak 35 è realizzato con un nylon ripstop 420D. È un materiale veramente performante, veramente tanto performante. 420D è molto alto come indicatore, è un materiale che vi assicuro non si romperà quasi mai. Davvero, io l'ho strusciato contro qualsiasi roccia, contro tutto quello che potevo strusciarlo. No, combinati di ogni a questo zaino ed è ancora perfetto. Quindi, veramente materiale super super promosso. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Orthovox Peak 35. Ve lo consiglio, assolutamente sì. Viene venduto da Orthovox a un prezzo di 240€ sul sito ufficiale, online non si trova a qualcosa meno. È uno zaino veramente perfetto per chi vuol fare del sci alpinismo oppure alpinismo d'alta quota. Ma soprattutto per chi vuol fare queste due discipline per giorni. Perché davvero, vabbè, io ho la versione 35 litri, ma pensate di prendere la 45 o la 55, potreste stare in giro per giorni con tantissimo materiale, senza dover pensare di dover scendere di quota per rifornirsi. È uno zaino veramente, veramente eccezionale. Cioè, come zaino d'asci alpinismo o alpinismo per stare in giro tanti, tanti giorni, penso sia il migliore. Sicuramente sì, candida essere il migliore. Detto ciò, ragazzi, una speranza di essere stato esaurante e esaurante anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!